Sono 2000 i capi che un noto imprenditore veneziano ha donato al comune di Cittadella che si è subito attivato per distribuire il vestiario ai cittadini che stanno vivendo momenti di grave difficoltà economica e sociale. L'amministrazione ha subito contattato l'associazione Veneti schiacciati dalla crisi e altri gruppi che operano sul territorio oltre alla Croce Rossa e in tempi molto brevi le famiglie cittadellesi che non se la passano bene potranno ricevere jeans, camice e maglieria. Dal comune fanno sapere che si tratta del quarto step di un progetto più ampio di ridistribuzione di capi d'abbigliamento e che i vestiti consegnati finora sono oltre 4000.